Vad ''niau Niau N第 2'' ha 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 la Genova ci ha fatto siamo coi no no se Pezza di genovese oh come fa? e io... nonア bedroom siamo da Genova lo capito poiaa non capisco niente diamo della foto ma io capisco che lo dico anch'io vabbè se sai come dire vinto in sicilia è uguale vabbè vado sopra con i giunti l'ora parlo di e te lo riporto giù parlo io a me non mi riconosco sembra zorro che poi c'è il bello è arrivato sto degenerando salva se questi 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 Grazie.